Squadra a Milanello questa mattina per l'allenamento odierno, focalizzato sul prossimo match di Europa League contro la Stella Rossa, in programma giovedì 25 febbraio a San Siro, alle ore 9.05. Attivazione muscolare in palestra, poi squadra in campo per un lavoro aerobico lungo il perimetro del campo. A seguire una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto alcune partitelle a tema, giocate su campo ridotto. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milan News, Mandzukic e Benaser hanno sostenuto ancora un allenamento a parte dal resto della squadra. Discorso diverso invece per Diaz e Ibrahimovic, regolarmente in campo con i compagni e pienamente recuperati. Le prove tattiche si terranno domani, ma Leao e Rebic potrebbero essere titolari in Europa League. Il neoterzino sinistro della primavera, Milos Kerkez, si è allenato oggi con la prima squadra. Ricordiamo che il classe 2003 ungherese è stato prelevato nella recente sessione di calciomercato invernale dal Ghior, come rinforzo per la primavera.